Sono Minza Erfana, oggi farò un video con una sorella, Liana. Allora, le mettere questa sciarpa davanti agli occhi per vedere il cibo. Dovrò scegliere se mangiare o scartare. Allora, che scegli? Mangia! Piperoncino! Vai! Adesso le mangierò il peperoncino. Non imbagliare. Eglia! Baby! È forte! Allora, vai! Pronti? Non so se. Ci sono ancora altre cose. Forte. Io dovrei bere? Sì. Non mi consiglio. Rossa? Allora, che scegli? Mangia! Sarai bene. Guardi saprete che bello. Guardi un po' la cosa. Guardi sapete. Arrai bene. Guardi sapete. Arrai. Guardi sapete. Mania. Sì. E' Comunque mangia! Comunque! E almeno c'è la sfortunata! Questo! Che è? Allora vi diamo mani! Grazie! Non tanto! Ecco qui ragazzi! Sì, mani! Non ci vuole cosa sono molto delicata! E sai? Vediamo che tanto vuole! Dai! Posso? Mangia! Quindi mangi? No, no, no! Scatta! Ok, ti sei giocato alla cioccolata! Vai! Finammo quante ne hai mangiate tre? E ne hai scattato solo uno? Sì! Vai! Scatta! E fanno via un attimo! Scatta! Allora cioccolata! Cosa rimane da mangiare? Che scegli? Mangia! Sì! Allora! Auguri! Proprio il nero! Poi fu! Poi fu! Poi! Che fai un po' fortunato! Grazie! vai mangia allora ragazzi spero vi sia piaciuto questo video mi raccomando iscrivetevi e mettete tanti like ciao no perché? domanda vabbè non l'aventata mi raccomando